Grazie per supportare il nostro canale. Quest'anno verissimo raddoppia, andrà in onda sia il sabato pomeriggio sia la domenica pomeriggio, al posto che per anni è stato di domenica live di Barbara D'Urso. Una scelta fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi per tamponare i disastrosi ascolti dell'ultimo anno. Una scelta che si è rivelata vincente dato i risultati ottenuti con la prima puntata andata in onda il 18 settembre. Sabato 25 settembre 2021 Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio, il protagonista della serie tv turca Luvi Zindeyer Kerem Bursin. La conduttrice sportiva di Letta Leotta e il presentatore Piero Chiambretti. Ci saranno anche due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2020, Luigi Busa. Oro nel karate a Tokyo e Veronica Yoko Plebani bronzo nel triathlon. Domenica 26 settembre gli ospiti di Verissimo saranno, il cantante Albano, l'attore e giurato di star in the star Claudio Amendola. L'opinionista del Grande Fratello Vipe moglie di Paolo Bonoli Sonia Bruganelli e l'ex concorrente del Grande Fratello Nipi Carolina Marconi che parlerà della sua battaglia contro il tumore. Sabato 25 settembre secondo appuntamento in televisione con Tussico Evales. L'ospite della puntata sarà il rapper Ilunga Axe. Che canterà il nuovo singolo sono un fan estratto dall'ultimo album surreale. A giudicare le performance di artisti nazionali e internazionali. Delle più svariate discipline, gli insostituibili, Geri Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare. Immancabili le incursioni di Geri Scotti nei panni del manager della scuderia Scotti che rappresenta artisti sui generi simpacciati e dall'altissimo tasso di comicità e varietà del sabato sera e condotto come sempre da Belen Rodriguez, Martin Castro Giovanni e Alessio Sacara. A introdurre i vari performer sul palco Giulia Stabile. Ballerina e vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ballerina e vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.